La solidarietà passa da Atri. All'ospedale San Salvatore donazioni di attrezzature e materiali per un valore di oltre 300 mila euro. E la generosità dei privati così sopperisce in minima parte a Italia la sanità pubblica degli ultimi anni. Oltre 300 mila euro per le attrezzature dell'ospedale. Questi sono stati raccolti direttamente, sono donazioni fatte direttamente al presidio ospedaliero. Io ricordo la donazione di 110 mila euro per i quattro ventilatori. Per quanto riguarda invece le donazioni del denaro liquido è possibile farlo con un conto corrente messo a disposizione, aperto appositamente da alcuni di Atri. Con questo conto corrente abbiamo raccolto oltre 50 mila euro liquidi. La farmacia dell'ospedale ha a disposizione queste somme, ha già fatto quattro ordini. Quello di Atri è il Covid Hospital della provincia di Teramo, il nosocomio cioè in cui vengono trattati i casi di coronavirus. Hanno già dimesso 93 utenti, ci sono 89 ricoverati e la buona notizia è che ci sono stati anche due stupati, di cui uno è in attesa di tampone ormai per essere dimesso. Riconvertito in Covid Hospital, il San Salvatore è in prima linea nella lotta contro il virus, in cui impiega la maggior parte delle sue risorse. Non tutti i servizi però sono stati dislocati. Il grosso dell'ospedale di Atri è stato tolto perché vorrei ricordare che questo comunque era il presidio ospedaliero che offriva il maggior numero di prestazioni specialistiche dopo il Mazzini di Teramo, dopo quello del capoluogo. Ci sono ancora alcuni servizi, a parte il pronto soccorso anche per il non Covid, alcuni servizi sono stati spostati nella palazzina adiacente all'ospedale, quindi in termini servizi relativi ad esempio al centro prelievi e poi come amministrazione comunale abbiamo messo a disposizione gli spazi dell'ex pretura dove si è spostato un importante servizio del CSM, del centro di salute mentale. E' che comunque offre un servizio molto importante, specie in questo periodo in cui comunque la gente è soggetta anche a particolari restrizioni e quindi necessita anche di questo tipo di servizio, di questo tipo di aiuto.